Chiudi gli occhi e fai un respiro profondo. Mentre inspiri ed espiri lentamente, senti il tuo corpo rilassarsi. Immagina di trovarti al campo base dell'Everest. Questo è l'inizio di una nuova avventura, il tuo primo anno di scuola superiore. Sei qui, pronto con i tuoi compagni. La cima potrebbe sembrare lontana, ma sentiti tranquillo. Hai il tempo e il supporto necessario per affrontare questa scalata. Un passo alla volta. Adesso immagina di preparare tutto ciò di cui hai bisogno, libri, compiti, orari. Sentiti sereno mentre dai la giusta priorità agli impegni scolastici, sapendo che gli impegni extrascolastici troveranno il loro spazio. Con questo equilibrio ti senti leggero e sicuro, pronto a muoverti con calma e concentrazione. Ora guarda i tuoi compagni. Siete uno stormo, uniti in questo viaggio. E come uno stormo di occhi migratrici vi sostenete l'un l'altro, avanzando insieme verso la cima. Immagina come il volare di un gruppo vi renda più forti, più resistenti. Puoi fare affidamento su di loro e loro su di te. Insieme, ogni passo è più leggero, ogni sfida diventa più affrontabile. Immagina anche le persone che ti guidano lungo il percorso, gli insegnanti, i tutor, il personale scolastico. Sono qui per aiutarti. Sono come guide esperti che conoscono la montagna e possono darti i consigli giusti per affrontare le difficoltà. Quando hai bisogno di un aiuto, loro sono lì, pronti a darti supporto e indicarti la strada migliore. Adesso pensa al tuo atteggiamento. La salita può essere dura, ma tu sai che puoi affrontarla con calma. Ogni passo che fai ti porta più vicino alla vetta, senza fretta, senza pressione. Con un atteggiamento positivo, il supporto del tuo stormo e delle tue guide, puoi superare ogni ostacolo. Ora immagina di iniziare la scalata. Passo dopo passo, sai che puoi raggiungere la vetta con calma e sicurezza. Fai un respiro profondo e quando ti senti pronto, riapri gli occhi, portando con te questa sensazione di serenità e di fiducia per affrontare il tuo cammino.